Proroga del super bonus 110% fino al 31 dicembre 2025 con la possibilità di usufruire ancora della cessione del credito per gli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico effettuati nelle aree colpite da eventi sismici dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. È stato questo uno dei passaggi più attesi licenziati dalla Commissione Finanze, un provvedimento che agevolerà l'ITER per la ricostruzione del centro Italia e per l'associazione di categoria questa decisione rappresenta un'importante boccata d'ossigeno per tutto il comparto. Sì, è una buona notizia ma la ritengo abbastanza scontata perché non poteva essere diversamente perché si innescava un meccanismo perverso soprattutto in un'area sismicamente molto attiva anche se non direttamente interessata ma comunque oramai siamo abituati ai terremoti ogni 10-15 anni qualcosa succede e quindi non intervenire, non dare la possibilità di migliorare la risposta sisma e struttura sarebbe stato qualcosa di assurdo e vergognoso. Tenendo presente che in Italia oramai dal belice spendiamo mediamente 6 miliardi annui per ricostruire qualcosa che oggi se riusciamo a prevenire, a sistemarlo prima sicuramente risperbiamo dei soldi nei prossimi anni. L'emendamento ha spiegato il commissario straordinario alla ricostruzione. Guido Castelli garantisce fino al 2025 la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli interventi di ricostruzione che hanno soffrito del 110% per le lavorazioni non coperte da contributo sisma. Il 2025 è una scadenza che sta dietro l'angolo. Secondo me i tempi di ricostruzione fossero incompatibili con questa scadenza molto ormai questo termine deve essere ulteriormente prolungato e allungato. La ricostruzione del 2009 non è ancora completata, sono passati anni quindi non pensiamo che al 2025 riusciamo a completare questo percorso. Si lavora ancora i crediti incagliati ma con soluzione alternativa e gli F24 e l'acquisto da parti di società private. Questo è un problema che sta creando veramente, scusate il ripetermi della parola, problema soprattutto contenziosi, stanno nascendo contenziosi tra i proprietari e le imprese. Le imprese sono bloccate perché non potendo scambiare quel credito i cantieri sono fermi con rischio di non portare a complimento le opere e parecchi proprietari rischiano di stare fuori dalle proprie unità immobiliari di proprietà oltretutto. Quindi è un problema veramente, veramente serio. Va affrontato in termini veloci per dare una risposta di sostanza a questo problema che appunto si sta ripercorrendo sui proprietari e sulle imprese.